Ha lavorato per Habitat for Humanity in Costa Rica. E allena i bambini disabili. Dovremmo controllare gli altri allenatori? È possibile che sia troppo perfetto? Non dico che sia perfetto, dico che cerca di esserlo. La gente lo fa. Che c'è? Non è questo che fa la gente. Molti fanno schifo, ma vogliono essere buoni, essere gentili. E house? L'eccezione che conferma la regola. Che razza di ragionamento è? Un po' scarso. Questo può essere importante. Acido idroforico, abbassa il calcio, causa svenimenti e alterazione del gusto. Ma non la gentilezza. Sarebbe bello. Tu sei Re Salomone. Se vuoi che lo tagliamo a metà, per me va bene. Wilson è troppo smidollato per decidere da solo. E questo lo dico con tutto l'amore del mondo. Farai arrabbiare uno di loro e ho paura di tutti e due. Il modo in cui tratti i pazienti è vergognoso. Cos'è? La sua scheda di valutazione? Ho da fare, le infermiere sono in sciopero. La tua gestione dei sottoposti rasenta all'abuso. Andiamo. No, voglio sentire. Dimostri apertamente disprezzo per la gerarchia ospedaliera. E subdolamente, ma tu non te ne sei mai accorta. Il tuo atteggiamento nei confronti dei supervisori è irrispettoso e una grande parte dei tuoi commenti è razzista e sessista. Vestita così sembri tanto una prostituta afghana. Senza offesa per le afghane. Firmala. Può aspettare. Io firmo se prima enunci la tua sentenza. Ti dico qual è se fai la valutazione della tua equipa. Mi piacerebbe molto continuare questo processo farsa. Tu cosa offri? I mercoledì fino alle 11 e weekend alterni. I mercoledì fino alle 11 e weekend alterni. Sì. Il mercoledì è la serata delle donne al gheppardo. Io. I mercoledì. Io. I mercoledì. Io. Ompettì. Il mercoledì. Io.